bene ragazzi buongiorno siamo qui oggi con un nuovo video oggi testeremo questo suzuki address su cui poi dovrò fare il tagliando completo vedremo come si comporta a solo 5.000 chilometri praticamente nuovo anno 2016 ora è molto stabile e molto leggero si guida praticamente come una bicicletta da subito da un buon feeling di guida ovviamente sono abituato a guidare cose molto pesanti quindi questo è veramente un giocatore da questo modo mi investe come vedete la strada è dissestata e nonostante questo devo dire che devo dire che ti da l'idea di saltare come su ciao il motore è abbastanza tranquillo però lineare ho fatto un un po di on off ma non si sente veramente questo vuole morire male può farmi morire male ok l'asperazione molto lineare gas molto modulabile già da adesso mi sento di dire che sia uno scooter ottimo per per un principianto comunque chi vuole spostarsi consumando poco anche i freni devo dire che funzionano bene molto modulabili vediamo se riesco a fare qualche slalom in mezzo alle macchine per vedere l'agilità ma direi che sarà molto agile essendo molto leggero comunque anche i profondi anche iолi ora anche i è è e ora facciamo ah no sono le macchine peccato volevo provare a piegare un po' in rotonda vediamo se questa qua se ne va lo facciamo passare eh ma c'è un po' di traffico purtroppo ok vediamo beh si scende bene in piega comunque senza problemi super maneggevole davvero è una frenata veramente ottima mi dà l'impressione di arrivare lungo riuscite a modulare proprio bene devo veramente dire che se siete guidati con i metri pesanti sopra i 150 kg mi sembrerà un sogno di guidare questo cattolino perché fate veramente quello che volete cosa che invece non potete fare chiaramente con i metri pesanti perché tante roba le tessi non puro no la protezione dall'aria è una delle migliori perché tutto il corpo è aperto anche le gambe si sente l'aria di fare sempre un'obbligata e per piante come vi sento un paravento con le gambe come entrambi grazie a tutti